Ciao ragazze, oggi ho fatto questo tutorial dato che vi volevo far vedere... Ciao ragazze e questo è il saluto che apre tutti i tutorial di Clio Makeup, conosciuta come Guru attraverso Youtube. I suoi segreti di bellezza svelati passo dopo passo in un diario che ha fatto il giro del mondo, con sede a New York per poi tornare in Italia. La sua passione è diventata così una professione e oggi Clio Makeup fa tappa anche in Puglia a Bari per l'esattezza nel temporary studio di Piazza Diaz, dove le sue fan l'hanno incontrata prenotando il proprio turno sul sito ufficiale di Real Time. Mercoledì 10 ottobre, rotonda del lungomare di Bari davanti di fronte a Piazza Armando Diaz, quindi ho visto su Google c'è questa piazza, troverete questa casetta di vetro dove ci sarò io e vi aspetto dalle 10 del mattino fino alle 8 di sera. Ciao! Mettendosi alla prova con l'arte del trucco dunque per giocarsi la partecipazione alla terza edizione del programma in onda su Real Time. Dopo il successo della data di Padova e l'appuntamento di Bari alla volta di Palermo, Clio continua così il suo vero e proprio tour e un viaggio nel mondo della cosmesi. Il fatto di aver per gioco aperto un canale così su YouTube mi ha cambiato la vita, mi l'ha rivoluzionata. Sono partita e sono arrivata a New York con l'idea di diventare una classica make-up artist e mi ritrovo adesso, a distanza di soltanto 3 anni, ad essere qualcosa di molto diverso, perché sono sì una make-up artist, continuo a fare la freelance qua a New York, però sono diventata scrittrice, ho scritto due libri per Rizzoli, sono diventata conduttrice televisiva, ho fatto un programma sul Real Time, sul trucco, un'opinion leader, ogni giorno condivido trucchi e esperienze su YouTube. Le persone che mi seguivano da 100 sono diventate milioni. In ogni episodio mostra, ormai da tempo, a due donne come applicare il trucco in maniera professionale, cancellando le piccole imperfezioni e creando il look perfetto per un'occasione speciale. Ma prima della TV a incoronarla regina di YouTube è stata proprio la rete, con tantissimi contatti che hanno trasformato la sua vita in una vera e propria favola.